11 interventi di riqualificazione urbana per un investimento di 4 milioni di euro. Li prevedeva a Moncalieri il progetto Top Metro della città metropolitana di Torino, assegnataria dei fondi messi a disposizione dal bando periferie del governo. Gli interventi sono stati completati e il consigliere metropolitano delegato alle attività produttive Dimitri De Vita si è recato a Moncalieri per inaugurare insieme al sindaco Paolo Montagna e all'assessore comunale alle attività produttive e ai lavori pubblici Angelo Ferrero uno degli interventi più significativi e aderente agli obiettivi posti dal bando periferie. Si tratta del parco scolastico e culturale Cascina Maina, realizzato grazie al recupero di un'area del Burgo San Pietro fino a poco tempo fa ridotta ad un gerbido, nel luogo in cui un tempo sorgeva l'antica Cascina. La città di Moncalieri ha potuto attrarre sul proprio territorio risorse per 4 milioni di euro grazie al fatto di aver predisposto per tempo gli studi di fattibilità di opere importanti, come la riconversione di un ex asilo nido nella nuova sede del comando della Polizia Municipale. La nuova sede, in cui i vigili moncalieresi si trasferiranno man mano che i lavori di ristrutturazione avanzeranno, potrà disporre di connessioni internet a banda larga che renderanno possibile la gestione, in una moderna sala operativa, di un'estesa rete di telesorveglianza del territorio. L'elenco delle opere realizzate grazie al progetto Top Metro a Moncalieri comprende anche la riqualificazione della pavimentazione della palestra della scuola Montessori, l'adeguamento alle normative di sicurezza della scuola media Pirandello e interventi sulla viabilità. Questi interventi a Moncalieri, parliamo di attrazione di risorse per 4 milioni di euro, sono l'esempio del ruolo che può giocare Città Metropolitana in questo senso? La Città Metropolitana è un ruolo che gioca ormai da tempo, l'ha iniziato a fare soprattutto col bando periferie, con questa grande misura di ricucitura di tutto il tessuto periurbano. L'investimento sulle periferie per noi diventa fondamentale. Oggi a Moncalieri abbiamo la possibilità di visionare tecnicamente quello che è il risultato di un investimento corposo, che grazie alla strategia di coordinamento soprattutto che Città Metropolitana ha saputo dare ai comuni dell'Inter-Landa Torinese permette di rivalutare queste aree. Oggi ci troviamo in questo parco giochi che viene restituito alla cittadinanza, qualcosa di favoloso, veramente di ultramoderno e soprattutto di gestibile per tutte le età. L'obiettivo di Città Metropolitana è proprio questo, quello di restituire le periferie ai cittadini e soprattutto di farne il fulcro centrale della vita sociale e civile di ogni cittadino. Sindaco, una serie di servizi importanti per la città, ma anche di angoli che ritrovano una funzione per tutti i cittadini moncalieresi. Una riqualificazione vera, grazie a Bando Periferia, Città Metropolitana, la possibilità di trasformare un gerbido in un giardino attrezzato. A disposizione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie è 0-18 anni la possibilità di usare i nostri giochi e il nostro spazio. È stato importante per la città di Moncalieri farsi trovare pronta con dei progetti, degli studi di fattibilità che fossero in grado di partecipare a questo bando. Sì, avevamo le idee nel cassetto e nella testa, abbiamo utilizzato la possibilità del bando per mettere mano alla matita e disegnare posti come questi che davvero rappresentano un'occasione di rigenerazione dei luoghi e anche della comunità.